Ieri per la prima volta dall'inizio della seconda ondata i lombardi ricoverati per covid sono diminuiti non solo nei reparti ma anche in terapia intensiva. 945, meno 4 da domenica, ci sono stati altri 140 morti e più di un terzo, ovvero 51, erano nel milanese, che ha poco meno di un terzo dei nuovi contagiati. 1.604 ieri su 5.289 in Lombardia. 25 vittime erano del Varesotto, 20 del Comasco e 18 della Brianza. I ricoverati nei reparti covid ieri erano 8.331, meno 60, ma è un saldo negativo tra ingressi ed uscite perché ieri altri 437 lombardi sono entrati in ospedale per il virus. Dei 9.276 pazienti totali, comprese le terapie intensive, oltre un terzo, ovvero 3.462, sono in ospedali del Milanese, più di metà dei quali a Milano città. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali pubblici, la SST del Sacco ieri aveva 317 ricoverati per coronavirus, il Niguarda 294, erano 319 invece tra San Carlo e San Paolo e 178 al Policlinico. Mentre nei privati 144 alla Clinica Città Studi, 217 all'Humanitas, 231 al San Raffaele e altri 135 al Policlinico San Donato, 192 in Multimedica tra Sesto San Giovanni e la San Giuseppe. La geografia dei gravi, 945 in terapia intensiva, ne vede 117 in Insubria, 98 tra Lecco e Brianza, ben più di un terzo nel Milanese, 385, ovvero il 60% si trova in città. A ricoverarne di più è la Fiera di Milano, 63 ieri e il Policlinico ne aveva altri 25 dentro le mura. Seguono il Papa Giovanni di Bergamo, 62 tra fiera ed ospedale, il San Matteo di Pavia con 54, la SST di Monza con 47, il Sacco di Milano con 44 e la SST Lariana con 42.